Nell'ultimo tavolo di monitoraggio, il verbale finalmente disponibile, il governo del cambiamento ha chiesto di nuovo la chiusura del punto nascita di Sulmona. Dopo le promesse della campagna elettorale, di Salvini, della Meloni o anche del ministro Grillo, la realtà è che il governo ha intimato la chiusura del punto nascita chiedendo gli atti che documentino questa chiusura. Nulla dunque è cambiato salvo l'aver preso per i fondelli tanti cittadini e gli elettori nel sangro, nella comunità peligna e in questa regione. Noi avevamo concluso la legislatura aprendo un pertugio, una porta, chiedendo una deroga che ovviamente dal punto di vista degli argomenti anche all'interno della rete ospedaliera può essere ulteriormente rafforzata di contenuti dal governo regionale. Il problema è che questo governo regionale è lento e rallenta l'Abruzzo e anche questo dossier è fermo come tutti gli altri.